Polveri sottili e inquinamento atmosferico stabili e sotto la soglia consentita per Arezzo, ma non per questo meno preoccupanti. Questo è il messaggio di Lega Ambiente all'uscita dei dati del dossier Malaria, che mostrano un lieve miglioramento in Toscana ma con ancora troppe criticità, soprattutto per quello che riguarda le polveri sottili, le più dannose per la salute delle persone, vista la loro capacità di essere inalate facilmente dall'apparato respiratorio e per le alte concentrazioni registrate in ambito urbano. Io definirei con tutti i limiti del caso la qualità dell'aria di Arezzo di tipo mediocre, non è in condizioni che avrà mai le concentrazioni, non dico quelle terribili della Valpadana, ma neanche dell'area fiorentina Prato-Pistoia, evidentemente essendo una città dove il vento soffia abbastanza bene, visto che i nostri padri etruschi l'avevano scelta bene la posizione, però in condizioni di inversione termica c'è l'accumulo delle sostanze inquinanti nell'area urbana e quindi queste sostanze inquinanti peggiorano la qualità dell'area soprattutto in determinati momenti. Le emissioni sono tre grandi fattori, diciamo traffico, riscaldamento e industria, industria e emissioni energetiche di trasformazione energetica. Quindi un terzo, un terzo, un terzo, spannometricamente ovviamente. Va agito su ogni fattore e cercare di ottimizzare il riscaldamento, diminuire il traffico, migliorare le performance energetiche dell'industria e via via. Quindi sono politiche industriali, politiche del traffico, politiche dell'abitazione e del riscaldamento, ma anche dell'agricoltura, agendo su determinati fattori, qual è l'immissione di bruciatura di potature, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire ottimizzare, ma ottimizzare vuol dire avere una politica a lunga scadenza per migliorare anche la qualità dell'area, ma non solo quella evidentemente.